Aveva travolto e ucciso il 21 agosto del 2022 a Porcia un ragazzino di 15 anni, Giovanni Zanier, che stava rincasando con un amico percorrendo una pista ciclabile a rientro dopo una serata in discoteca. L'amico era rimasto illeso, Giovanni invece non ce l'aveva fatta. Ora il Tribunale di Porderone ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione la soldatessa americana di 21 anni, Giulia Bravo, in servizio alla base militare di Aviano. La pena è stata sospesa e non è stata riconosciuta l'aggravante della guida in stato di ebrezza, in quanto il test alcolemico che aveva dato sì esito positivo, era stato effettuato però sulla conducente oltre due ore dopo l'incidente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di quella tragica notte, la giovane soldatessa accelerò nei pressi di una rotatoria, non accorgendosi della presenza del ragazzo per l'assenza di illuminazione. La donna aveva comunque prestato subito soccorso al ragazzo nel disperato tentativo di salvarlo. Nei mesi scorsi poi era stato trovato anche l'accordo risarcitorio attraverso l'assicurazione che copre la responsabilità civile per i militari americani.